Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Testila News. Oggi parleremo di un filato che aspettiamo da tanto tempo. Si è fatto attendere un po', ma ritorna in grande stile, ovvero con una formulazione cambiata, migliorata e che amerete ancora di più. Parliamo del Baby K. Andiamolo a vedere insieme. Eccolo qui il nostro Baby K, un gomitolo dal peso di 50 grammi per una lunghezza di 150 metri all'incirca, composto al 50% da lana Super Soft Merinos Irrestringibile e al 50% da Acrylico Top Quality. Per questo filato consigliamo l'uncinetto numero 3,5, mentre per i ferri quelli dal 4 al 5. Il Baby K è una lana di alta qualità che mostrerà tutta la sua bellezza dopo i primi lavaggi, questo perché la fibra di lana esploderà a contatto con l'acqua. Per un lavaggio corretto, soprattutto per i primi lavaggi, consigliamo un lavaggio a mano a 30 gradi con un sapone delicato. Sarà quindi possibile utilizzare tutti i solventi più delicati, eccezione fatta per il tetracloretilene, ed è sconsigliato il candeggio. Per quanto riguarda invece l'asciugatura, sconsigliamo di strezzare il capo, ma è preferibile tamponarlo con un asciugamano. Una volta eliminata l'acqua in eccesso, è consigliabile lasciare asciugare il capo su un ripiano e lontano da fonti di calore. Bene, passiamo ora a vedere tutte le colorazioni disponibili. Quella che abbiamo appena visto è il colore giallo. Le prime colorazioni che vediamo sono le sfumature del blu. Partiamo dall'azzurro, avio, celeste, turchese, blu e bluet. Passiamo ora al grigio scuro, verde, militare, carta da zucchero, arancione e petrolio. Passiamo ora a delle tonalità più scure, partendo dal nero, il marrone, il marmotta e poi il tortora, il grigio perla e il grigio scuro. E continuiamo con la colorazione cipria, rosa, fucsia, lilla, lavanda e prugna. Ed infine le colorazioni bordeaux, panna, beige, sinape, bianco e rosso. Un filato, come potete vedere, che è una lana di alta qualità, molto scorrevole in fase di lavorazione. La lana baby care infatti riceve un trattamento che si chiama di vaporizzazione. Questo ammorbidisce e preserva la fibra. Grazie al confezionamento scrupoloso che viene fatto per ogni gomitolo, è un sottilissimo film a basso impatto ecologico. Questo garantisce l'assenza di agenti esterni e quindi rendono il prodotto dust free, ovvero senza polvere. Quando parliamo di lana dobbiamo essere a conoscenza del fatto che possiamo essere di fronte a diverse tipologie di lana. Queste possono variare in base a diversi fattori. provenienza, la lunghezza, la porzione di tosatura dell'animale e le fasi di lavorazione che ne susseguono, come il lavaggio e la finissatura. La lana baby care viene finissata in Italia in esclusiva per Tessiland, con delle fibre di alta qualità. Infatti questo filato è particolarmente indicato per la realizzazione di capi per bambini ma anche neonati. Inoltre la presenza della fibra acrilica garantirà la duratura nel tempo. Questa nuova versione del baby care è stata studiata proprio per migliorare quella già amatissima delle scorse stagioni. Noterete senza dubbio una migliore scorrevolezza durante la lavorazione e una fibra più compatta a livello visivo. Questo grazie alle lane fini che vengono adoperate e alla grande qualità della microfibra che viene mescolata ad esse. Quindi noterete anche l'extra comfort al contatto con la pelle, sia dei più grandi che dei più piccini. Questo lo noterete già dal gomitolo che risulterà per la stessa metratura meno voluminoso. Questo non significa però che perderà la sua caratteristica morbidezza e delicatezza a contatto con la pelle. Questo filato si presta infatti in particolare alla creazione di capi per bambini ma anche neonati, come anche delle copertine, ma anche accessori come cappellini, sciarpe o guanti. Una delicatezza che verrà apprezzata sia dai più grandi che dai più piccini. Con questo filato troverete numerosi tutorial da cui prendere spunto per realizzare i più svariati progetti. Bene, arrivati a questo punto non mi rimane che ricordarvi di attivare la campanella, iscrivervi al nostro canale e di seguirci su tutti i nostri social. La pagina Facebook Meglio di Maglia, Instagram, TikTok, Pinterest e sul nostro blog. Al prossimo Tessila News! Grazie! Grazie!